è proprio assurdo ragazzi è proprio assurdo perché dico che è proprio assurdo perché questi sono veramente pazzi pazzi e non a caso pazza Inter perché è una squadra ragazzi che non vince quasi da un mese in campionato che fa fatica a segnare in campionato che pareggia con Salernitana perde contro Empoli tutte queste squadre qua va al Dalus contro il Benfica che è una delle squadre insieme al Napoli va ad offrire uno dei miglior calci a detta di tutti il miglior calci in Europa insieme al Napoli e City che stasera sta battendo il Bayern va in casa proprio di questa squadra qui e gli fa 2-0 cioè l'Inter vince 2-0 al Dalus in Portogallo contro il Benfica non ipotecando diciamo una semifinale perché ci sono ancora 90 minuti da giocare e un 2-0 non è un risultato enorme però ragazzi tu vai a San Siro adesso con un 2-0 dalla tua capisci che comunque hai un vantaggio non enorme ma buono un gran vantaggio un gran vantaggio sono pazzi sono pazzi perché difetto cioè veramente siamo una squadra che non gli dà più una lira questa sera una lira e invece ci ha stupito Inzaghi criticato ci sta perché in campionato va male ma le coppe ragazzi le coppe non toccate le coppe a Simone Inzaghi perché con questo tipo di competizioni il caro Simone ci sa fare un Inter che nel secondo tempo l'ha anche dominata la partita cioè l'Inter ha fatto la partita nel secondo tempo l'Aldalus la partita farvi capire che la Benfica è una grande squadra ma è battibile cosa che noi purtroppo ne andate ne ritorno siamo riusciti a fare i gironi infatti siamo probabilmente forse più siamo scarsi perché siamo scarsi al primo tempo diciamo che si è vista comunque la supermerzia del Benfica territoriale a livello di possesso di occasioni neanche tante perché poi alla fine a parte quella di Rafa Silva non è che poi Orana fa la parata col braccio perché lì è di Marco che sbaglia il colpo di testa e la palla della gara proprio a Rafa Silva e il tiro al vuolo di João Mario dove la palla comunque esce fuori da abbastanza Benfica aveva la maggior parte del possesso palla cercava di imbucare cercava di far male ma poi appunto a parte quelle due occasioni lì non ha creato tanto l'Inter accanto suo teneva a botta si stringeva quando Benfica attaccava ripartiva ha avuto la migliore occasione con una Cerby da 35 metri un tiro da da fuori cioè una cerby da 35 metri palla che non vale neanche tanto alta sopra la traversa e quello sostanzialmente ha creato l'Inter nel primo tempo quindi da questo punto di vista meglio il Benfica però il secondo tempo ragazzi molto ma molto meglio l'Inter molto ma molto meglio l'Inter entra subito in campo subito l'Inter col gol Bastoni che porta questa palla quasi come come terzino e fa questo cross bellissimo sul secondo palo a Nicolo Barella che stacca completamente da solo e batte sul secondo palo appunto il potere del Benfica il Benfica lì ha un accenno di reazione subito al gol subito con questo gol con questo tiro di Rafa Silva nuova botta sicura e Dunfri si immola su questo palone in scivolata e blocca il tiro poi la palla rimane lì un batti di batti si fionda Gonzalo Ramos su quel pallone e lì ragazzi deve essere sincero mette la gamba davanti Ramos a bastone bastone di intervenire per me scalcia Ramos non ha altro rigore meglio così per l'Inter anche secondo me con lì è un contatto abbastanza da rigore nel senso che comunque se io anticipo un giocatore e mi calci ci poco da fare non so come mai il Valor ha intervenuto meglio per l'Inter meglio così per l'Inter Valken interviene invece per l'Inter perché sul cross di Dunfri ragazzi Joe Mario prende questa palla di mano in realtà prima prende la testa e poi la mano molte volte dicono che comunque quando diciamo la palla prende un'altra parte del corpo il fallo di mano non si sanziona non è sempre così perché stasera ad esempio il fallo di mano a Joe Mario l'ha andato va Lukaku che entra un po' su di Dzeko non un grandissimo Dzeko e batte un rigore perfetto ragazzi Lukaku su rigore non sbaglia mai sta segnando solo su rigore quest'anno perché va detto Lukaku a parte il primo gol che ha fatto in campionato sta segnando solamente su rigore però almeno su rigore se è che c'è una persona decisa non ti sbaglia infatti il portiere del Benfica comunque intuisce anche il tiro di Lukaku perché si butta dalla parte giusta ma il tiro di Lukaku è forte e preciso non ci arriva al portiere quindi bravo bravo su questo punto di vista qua Lukaku che regala il 2 a 0 tra l'altro prima del rigore che infatti possono andare al VAR c'è stata comunque l'occasione doppia di Dumfries il colpo di testa parte dal portiere poi ancora Dumfries che tira e Morato se non sbaglio interviene interviene comunque col piede e blocca un tiro importante e poi ci ha provato anche Barella di nuovo nel finale un'azione che porta palla attiato col destro palla comunque abbastanza diciamo larga ci ha provato anche Grimaldo due volte dalla sinistra col Benfica anche lì però Grimaldo non ha mai beccato la porta non di tanto ma non l'ha mai beccata nel finale ragazzi nel finale il Benfica ha avuto l'occasione di almeno accorciare per arrivare a San Siro con un gol di scarto in meno filtrante di Neres se non sbaglio su Gonzalo Ramos o comunque non ricordo che ha fatto il filtrante per Gonzalo Ramos Gonzalo Ramos ragazzi tira e dice ancora Onana che fa una gran parata come al ritorno col Porto che nel finale Onana si è reso protagonista anche in questo caso Onana si rende protagonista perché comunque fa una buona patta su Gonzalo Ramos che non tira proprio bene 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 però comunque fa una grandissima parata perché appunto impedisce al Benfica di accorciare sai comunque vai a San Siro col 2 a 1 è un po' più diverso rispetto al 2 a 0 quindi Onana si rende protagonista nel finale ancora una volta desideri comunque qualcuno russare sempre il mio cane che ogni volta ragazzi non ha russato fino adesso praticamente io quando registro deve sempre russare non c'è niente da fare lo fa apposta e quindi l'Inter non dica un passo dalle semifinali perché 90 minuti sono tanti due gol si possono fare per carità ma se in casa è tutto a San Siro un Inter che le vede le inizia a intravedere queste semifinali questo è poco ma sicuro ragazzi poco ma sicuro e complimenti complimenti all'Inter perché è dato a giocare in un campo che non era assolutamente facile il Benfica quest'anno una sola volta aveva perso in tutte le competizioni una sola volta questa qua è la seconda volta che il Benfica perde e l'ha battuta l'Inter perché per il resto ha sempre vinto comunque sempre è stata imbattuta una squadra che era difficilissima e l'Inter ha vinto 2 a 0 quindi complimenti complimenti perché non posso dire altro complimenti giustamente a noi ci hanno anche eliminato quindi possono anche sfotterci quanto vogliono calcisticamente parlando perché loro comunque ci hanno vinto per il momento poi vediamo il ritorno ma per adesso comunque li hanno battuti ragazzi vedete che il video può finire qua quindi se vi è piaciuto lasciate un bel like mi raccomando come avete visto qui sotto nei commenti e fate sapere un po' voi cosa ne pensate appunto di questa partita qua tra Benfica e Inter ditemi anche se secondo voi c'era il rigore per l'Inter giusto darlo e se comunque andava anche dato quello del Benfica perché magari abbiamo anche delle opinioni diverse è bello confrontarsi e soprattutto anche se vi facciate ragazzi iscrizione al canale che è fondamentale e non costa molto tanto basta che fate clic su iscriviti e siete iscritti senza costi nulla e mi supportano così non se lo fate vi ringrazio di cuore condividete i video con i vostri mi consiglio anche loro e attivate i campi le notifiche così non vedete i miei prossimi video che usciranno link in descrizione anche dal bar di questi channel e link in descrizione anche dal mio profilo Twitter qui da me che è tutto bella pazza pazza inter